Ecco la sorpresa. Carlo Verdone è qui con noi oggi, con voi, ed è qui perché ha saputo dell'evento Io per le donne, ha saputo di quante siete lì a vederci ed ascoltarci e quindi è qui per salutarvi, è qui per fare una chiacchierata con me che rappresento tutte voi. Grazie a voi. A Carlo Verdone direi che la sorpresa quest'anno è riuscita perché secondo me nessuna di voi si aspettava una sorpresa così grande. Una cosa che faccio con molto piacere. Grazie, grazie davvero. Grazie a voi. Da parte di tutti noi le congratulazioni veramente di cuore per l'Oscar, per la grande bellezza. Grazie. Però credo che il successo sia del regista, sia soprattutto del regista, dell'attore principale Servillo, però indubbiamente anche di un buon cast di attori dove ognuno di noi ha dato veramente il massimo perché aveva intuito che Paolo Sorrentino stava facendo un ottimo lavoro. Quindi gli abbiamo dato l'anima e alla fine il risultato è arrivato. E' stato insperato perché arrivare fino così in alto è una cosa molto molto difficile. Però è stata un'emozione molto molto forte e soprattutto c'era bisogno di una finestra internazionale importante per riproporre l'Italia anche sul piano culturale in prima fila. Quindi siamo tutti molto grati a Paolo e siamo anche grati al nostro talento perché chi più chi meno alla fine ognuno ha dato molto del suo. Un'eccellenza assoluta nella cultura italiana. Quindi siamo anche noi molto grati a voi perché ci avete veramente rappresentato in modo perfetto. La grande bellezza. Noi siamo qui adesso con tante donne che vogliono raccontarci la loro bellezza e anche vogliono trovarla o ritrovarla. Vogliono constatare la loro bellezza dopo alcuni eventi, direi, traumatici. Qual è la bellezza vera della donna per Carlo Verdone? Lo sguardo, l'ironia, la complicità però anche lo scontro, cioè una vivacità di rapporto. Non è essenzialmente estetico il mio giudizio. Il mio giudizio è un particolare che mi comunica qualcosa. Uno sguardo intelligente, però anche affascinante, mi comunica qualcosa. Il modo di guardare, il modo di sorridere, il modo di essere seri, il modo anche di stupire continuamente. Un uomo quando è stupito continuamente da una donna. Sono piccole cose. Un giorno ti viene a trovare in un modo, un giorno vedi che si è conciato in una maniera un po' diversa, però non è mai uguale. Ti porta sempre un po' di stupore. Io credo che sia l'ideale. Dubbiamente ci vuole una lunghezza d'onda simile. Io credo che la cosa migliore per andare d'accordo in un rapporto non sia essere uguali all'altro, simili all'altro. Bisogna essere diversi. Quello che deve essere uguale deve essere la stessa chiave ironica. L'ironia è un elemento essenziale in una coppia che unisce in una maniera straordinaria. Quando una coppia ride e si intendono perché quel dettaglio fa ridere, vuol dire che tra loro c'è un grandissimo feeling. Anche se poi litigano e bisticciano su altre cose. Però la risata, il sorriso, la risata unisce tantissimo. È vero, questo è molto vero. Credo che anche le nostre donne... Non c'è niente di peggio che le coppie tristi dove non si ride mai, non si sorride mai e dove non c'è mai un momento di leggerezza. Anche nei momenti, diciamo così, delicati, particolari, il sorriso non dovrebbe mai venire a mancare. Non dovrebbe mai venire a mancare. Bisogna ogni tanto sforzarsi di staccare e di guardare anche con ironia, dove è possibile. Certamente ci sono dei momenti in cui l'ironia non si può toccare. Però dove è possibile farne il più uso che si può. È vero. Parlando d'amore, secondo me tutti i film di Verdone hanno l'amore dentro, in qualche modo. Beh, ho recitato con tanti attrici, sì. Ho sempre la sensazione che l'amore in parte sia un mistero. Perché anche quando c'è, viene raggiunto, viene sognato, viene rimpianto, ha qualcosa di misterioso in sé. È come se i protagonisti dei film di Verdone desiderassero la buona, ma in fondo non lo capissero fino in fondo. È come se ci fosse un particolare che sfugge. Mi sbaglio? Non c'è un particolare che sfugge. C'è il terrore da parte mia, e credo da parte della maggior parte degli uomini, che possa terminare, possa finire, o per colpa propria, o per colpa dell'altro partner, o che si possa consumare, o che si possa bruciare tutto troppo in fretta. Eh, l'amore è una cosa... Beh, certamente io faccio commedia, quindi chiaramente mi metto spesso in situazioni divertenti, comiche, brillanti. Però spesso ci sono dei film, come per esempio Sono pazzo di Iris Blonde, o per esempio Sono maledetto il giorno che ti ho incontrato, o L'amore eterno finché dura. Insomma, spesso una persona che si incontra in una situazione di contrasto, poi improvvisamente è quella con la quale poi riuscirai ad avere una passione. Poi quanto durerà non lo so, perché il film termina in quel momento là, e quindi tu auguri ai personaggi che possano continuare a stare insieme. Però la fragilità della durata del rapporto è sempre un pensiero, è sempre un qualcosa. Questo è un tema che è molto presente nei miei film, però c'è anche molta voglia di affidarsi a qualcuno, cioè di affidarsi a una donna, di affidarsi a un uomo. Quindi, siccome stiamo vivendo un momento di grande solitudine tutti quanti, e ce lo dimostra anche la rete che fa delle cose straordinarie, che oggi non ne possiamo assolutamente fare a meno, però nello stesso tempo rende anche molto soli. Quindi bisognerebbe avere un senso dell'equilibrio dell'utilizzo della rete, perché molte persone… Leggevo l'articolo l'altro giorno che circa il 50% dei matrimoni oggi avvengono grazie a degli incontri sulla rete. Va benissimo, se gli dice bene va bene, però ho notato anche che molti miei amici prima che avevano fatto degli incontri sulla rete, diciamo che su dieci, otto coppie si sono lasciate poi alla fine. Quindi è presente sempre questo tema dell'amore, ma in termini sempre molto, così, un po' problematici. Però io sono una persona che è piena di passioni, che ama la donna, ama la vita, ama lo stare insieme, mi piace coltivare dei sentimenti. Certamente io sono un po' un veterano, però parlo per le nuove generazioni, ecco. Le nuove generazioni devono stare attenti, devono stare attenti nel valutare bene poi il passo che fanno quando si sposeranno, quando decideranno di andare a vivere insieme, anche uno sposandosi. di valutare bene, di pensarci due o tre volte, ecco, prima di affidarsi completamente a un'avventura che può andar bene, ma oggi gli ostacoli sono veramente tanti, tanti. È vero. Sono pazzo di Iris Blonde è uno dei miei film preferiti. Romeo, secondo me, è uno dei migliori personaggi e dei più soli, anche. Mi sono chiesto spesso se quella storia d'amore così bella con Iris fosse il senso di una vita, poi come si sia conclusa, forse, insomma, forse non importa. E mi viene in mente... Il film non finisce bene, il film finisce in maniera malinconica. Infatti il produttore del Cecchigori mi disse E ha fatto quel finale là, con quella tristezza che lei parte e tu rimani là nel marciapiede, abbiamo perso tre miliardi. Perché all'epoca c'era ancora Elire. Dice che il finale è... Però quel finale, che pure ha fatto perdere tre miliardi, come diceva Italo Cecchigori, però ha dato, secondo me, un po' di spessore al film, tant'è che è stato uno... È stato un film che ha visto le sale americane, quindi è andato negli Stati Uniti, però probabilmente anche grazie a quel finale, se no diventava un film... Diventava una commediola se non avesse avuto quel tipo di finale, non c'era un altro finale. Quel film è brillante, non è comico, è un film brillante con notevoli note di malinconia, però l'ho girato in Belgio, paese che stranamente... Voi tutti scapperebbero perché il cielo è sempre grigio. Io ci abitavo. Io amo molto il Belgio perché amo il nord, le atmosfere nordiche, amo molto il grigio, amo molto l'autunno, sono un leopardiano, sono un crepuscolare, ecco, insomma, alla fine faccio il comico, però sotto sotto, Iris Blonde, mi rispecchia in pieno, ecco. È bellissimo. Tra l'altro abitavo in Belgio proprio in quel periodo, lo ricordo e l'ho rivisto tantissime volte. Il mio miglior nemico, sotto una buona stella, i figli. I figli mi affascinano sempre nei film di Verdone perché anche loro mi sembrano un po' un mistero, insegnano tantissimo i figli. Sì, io ho sempre cercato dei rapporti molto conflittuali con i figli nei miei film, cosa che io fortunatamente non ho mai avuto con i miei perché siamo stati bravi nell'avere un rapporto di dialogo. Sono stato un padre a un certo punto della mia vita molto, molto presente e questo me ne sono accorto in tempo perché ero molto assorbito dal lavoro e cercavo, rischiavo di perdere un po' il rapporto con loro. Quando a un certo punto è arrivato un momento in cui mi sono detto adesso mi prendo tre anni, più di due anni e mezzo di riposo e mi dedico esclusivamente a loro. E allora ho cominciato a viaggiare insieme a loro. Il viaggio è una cosa che aiuta moltissimo. Quindi da solo, me li sono presi che erano piccoli e me li sono andati da solo negli Stati Uniti e ho fatto il mammo e il papà e mi sono occupato anche di portarli dal medio perché puntualmente si sono ammalati, placche, bronchiti, febbri, cose eccetera. Quindi però ho scoperto che fare il padre, fare il bravo padre è un lavoro, è un lavoro duro. Quindi facendo io quel viaggio a Los Angeles e a New York compresi quanto è difficile, quanto è delicato il lavoro di una madre che secondo me il lavoro della madre se lo fa bene è il lavoro più difficile del mondo facendo io soltanto quella piccola esperienza. Quindi da là mi sono reso conto che il lavoro di una donna dentro casa è veramente pesante. Però amare è un lavoro, stare insieme con una donna è un lavoro, stare insieme con i figli è un lavoro. Ci sono delle belle cose, bellissime, però bisogna anche a un certo punto sposare quelle che sono delle difficoltà dovute al lavoro di questo... Anche raccontare la propria vita è un lavoro. La casa sopra i portici è un libro bellissimo. Oggi parliamo molto di libri, con noi ci sono alcuni scrittori molto importanti. Io sono un piccolo scrittore. Ma insomma non credo perché il libro è veramente bellissimo. L'ho scritto bene, l'ho scritto bene, però di fronte ai veri scrittori io sono diciamo così un principiante, anche se comincio piano piano. Io credo che la scrittura sia una questione anche di esercizio continuo, oltre che di devi avere delle cose da dire e una sensibilità. Paralo scrivere bene è un esercizio continuo e incessante, oltre che una lettura continua di altri autori, perché tante frasi, attributi, parole, tu le recepisci, le assorbi da grandi autori. Ecco, quindi le puoi immettere al momento giusto, perché le hai lette in un... Insomma, quindi la cultura è importante, quindi anche per un piccolo scrittore come me. Ma qui immagino Andrea Vitali, che ci sta guardando, che farà sì, 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 vero Andrea? Comunque per ritornare al libro, La casa sopra i portici è bellissimo, è un libro d'amore, un romanzo, una poesia, una memoria. Io ho scritto quel libro perché un giorno, venendo ad abitare qua, mi sono reso... era morto mio padre e la casa l'abbiamo restituita al Vaticano, perché era del Vaticano, perché nel contratto c'era scritto che con la morte di mio padre la casa sarebbe ritornata al Vaticano. Noi tutti speravamo che la casa, insomma, ce la facevano tenere in qualche modo, ce la facessero tenere. No, non ce l'hanno fatta tenere. Quindi abbiamo sgomberato qualcosa come 18.000 libri, una cosa... cioè sei mesi di trasloco. Poi un giorno hanno potato degli alberi qua davanti. Io qua ho dei platani enormi. A un certo punto finalmente tagliano delle... e incomincio a vedere una prospettiva di Roma che mi mancava, che vedevo soltanto dal terrazzo sopra, ma gli alberi con tutti i rami, anche d'inverno, davano un'idea un po' confusa di quello che c'era. Sì, c'è il Villa Borghese, Santa Maria del Popolo, l'altare della Patria, però a un certo punto tagliando due grossi tronchi che si diramavano da un tronco principale, a un certo punto vedo la mia casa dove ero nato. Ho detto, ma la casa mia sta qua. Allora l'ho preso come un segnale di un amore che non voleva in qualche modo interrompersi. Allora mi sono venute in mente tante cose ed era molto piacevole affacciarsi dalla finestra e guardare quello che era stato il mio passato. Una casa ormai priva di anime perché con la morte di papà poi fra l'altro era così ed è tuttora disabitata. Forse ci faranno un albergo, meglio, perché se ci va un'altra famiglia mi sento male. Quindi ci facessero l'albergo e cambiassero tutto. A quel punto io ho pensato che quella casa, la mia infanzia era stata talmente importante che io dovevo omaggiarla in qualche modo. Quindi quel libro nato non per fare dei soldi come spesso fanno i comici che si mettono a scrivere per fare... ogni tanto qualche celebrità scrive e pensa che con un argomento... sì, qualche soldino lo fa però poi non c'è niente e sabbia senza calci. Allora io invece ho detto voglio raccontare la mia casa non so quanti lettori avrò però è come se io riaprissi un'altra volta la porta di casa e facessi entrare un po' di gente dentro e la riempissi come io l'ho vista riempita di gente importante, non importante però bella gente in un periodo vivo, vivace perché io racconto anche una Roma in bianco e nero perché io comincio a ricordare qualcosa alla fine degli anni 50 io sono nato dal 50 quindi diciamo dal 56 al 57 comincio a ricordare qualcosa e io e quindi quello che ricordo è una Roma in bianco e nero sono immagini in bianco e nero e racconto le stanze della mia casa attraverso tanti episodi che sono accaduti attraverso i componenti di quella famiglia quindi è stato un omaggio alla mia famiglia perché prima di andare a vita io sono nato là da una levatrice il 17 novembre del 1950 ed era una data un po' in fausta perché il 17 novembre di novembre, di venerdì tutti a fare così madonna allora credo che mia nonna da brava romana mio padre era senese però mia nonna da grande romana disse sapete che c'è insieme a Carlo lo volete chiamare Carlo gli mettiamo anche Gregorio che Gregorio a Roma significa che c'ha un gran culo allora Carlo infatti il mio vero nome è Carlo Gregorio non è Carlo e basta poi c'è però e allora alla fine è un nome che mi ha portato fortuna quindi diciamo così un omaggio ai miei genitori alla mia famiglia un omaggio anche a un passato a una Roma bellissima di altri tempi una Roma che aveva un'anima vera quella data dagli artigiani del mio rione data da tante persone piene di dignità da grandi persone piene di cultura casa mia è stata frequentata veramente dalla crema della cultura perché i miei genitori non erano persone ricche erano persone borghesi mio padre era un professore mia madre una professoressa papà professore dell'università mia madre professoressa di liceo però avevano tante passioni mio padre il cinema e la pittura mia madre la musica quindi è entrata però la crema di tutto e quindi sono stato molto fortunato in quello molto molto veramente lo scorso anno con Lella Costa ci fu un piccolo simpatico battibecco perché lei si definì un comico Lella si definì disse io sono un comico ed è la stessa cosa che ha fatto lei adesso si è definito un comico ora indubbiamente è vero che esista una parte comica però credo che la definizione di Carlo Verdone sia molto più ampia e varia e forse non non sia neanche giusta tutto sommato no anch'io me la sento molto stretta perché poi chi mi conosce nel privato sa benissimo che io sono una persona molto spiritosa molto ironica però attenzione la casa sopra i portici è una lastra radiografica perfetta di quello che sono io quindi quel libro fa ridere in determinati capitoli perché racconta con ironia dei dettagli delle osservazioni racconta bene però il fondo è profondamente malinconico quindi disse bene il compianto Stefano Reggiani che era un bravissimo critico della stampa di Torino critico cinematografico che un giorno dopo un film mi definì non ricordo quale film mi definì forse io mia sorella mi definì Verdone il melancomico e ho trovato molto giusta quella definizione sono sempre stato così non c'è stato un mio film che non abbia avuto una tinta di malinconia anche il primo film un sacco bello alla fine nel finale di lui che in maniera cepliniana se ne va su Via Geribati da solo e torna dalla madre tutto quello che gli è successo con quella ragazza spagnola a un qualcosa di dolce malinconia però attenzione qualcuno ogni tanto mi ha detto Verdone si sta deprimendo Verdone non depresso mi ricordo che quando uscì i compagni di scuola io rimasi malissimo perché ero convinto di aver fatto un buon film poi a un certo punto non ci ho capito più niente perché i miei amici mi lasciavano dei messaggi in segretaria del telefono e mi dicevano il film è bello ma tu ci stai poco poi ti ho visto sono come depresso c'è qualcosa che non va chiamami era tutto così ma sei depresso ma c'è qualcosa che non va cioè non ritrovavano più quella comicità di prima in realtà stavo uscendo fuori in maniera finalmente senza senza troppo pudore la mia vera la mia vera indole che è un'indole malincomica quindi malinconia e comicità nostalgia io sono un amante della nostalgia sono un fauno avevo cosa dico nel film di Sorrentino mica io l'ho scritto io l'ha scritto lui che cosa avete contro la nostalgia eh? è l'unico svago che resta per chi è diffidente verso il futuro l'unico cosa avete contro la nostalgia è l'unico svago che resta per chi è diffidente del futuro questo dico in quel teatrina quando ho la possibilità di fare lo spettacolo nel film che me lo danno per una sera ecco a me la nostalgia piace mi piace mi piace ricordare le belle cose mi piace ricordare soprattutto ho avuto la fortuna di vivere un periodo molto bello molto bello quei ricordi anche molto vaghi della fine degli anni 50 agli anni 60 sono stati straordinari ma da tutti i punti di vista dalla qualità delle persone dal punto di vista culturale dal punto di vista umano dal punto di vista anche della bellezza della mia città la mia città adesso è abbastanza sciatta purtroppo speriamo che si faccia qualcosa però all'epoca rivedendo anche delle fotografie che ho visto un po' nel mio album fotografico di famiglia no c'era un'altra cura su tutto era chiaramente meno ingolfata di macchine eccetera però era un era un paese che nella ricostruzione aveva una vivacità e ci teneva molto la città oggi sembra che questa città non appartenga più ai romani come se avesse perso la sua identità non è che ha perso l'identità è che c'è un fenomeno che avanza quello di interagire con altre culture è un fenomeno storico non c'è niente da fare quindi dobbiamo convivere però rendere la vita migliore a noi e a loro anche perché secondo me stare in contrasto e avere degli atteggiamenti estremi è estremamente sbagliato è un'opportunità è una nuova opportunità quella che però si può ugualmente mantenere il proprio la propria identità anche convivendo convivendo con altre culture non è che possiamo vedere queste persone e vorrei dire bene soltanto perché ci hanno le spiagge belle in Africa ci hanno il sole noi da loro andiamo a prendere il sole però sappiamo che vivono in situazioni di emergenza quindi per quel che possiamo fare dobbiamo farlo poi è giusto anche che altri paesi facciano altrettanto però noi non è che facciamo moltissimo in quello perché non siamo molto organizzati no infatti bene penso che la sorpresa sia piaciuta ora io taccio e lascio che sia Carlo Verdone a salutarvi insieme a me allora io innanzitutto vi ringrazio per avermi ospitato sono presente in uno schermo però nel periodo in cui avverrà questa questa grande riunione questa io sono purtroppo in America sono fuori e quindi non potrò essere presente però sono felice di essere con voi e soprattutto il messaggio che io posso mandarvi da da persona che ama che ama la gente perché io alla fine per fare per sviluppare il mio lavoro per svolgere il mio lavoro devo stare a contatto con le persone le devo le critico però le amo anche le amo anche per i loro difetti anche per le loro fragilità per le loro debolezze oppure le racconto anche per la grande dignità che hanno insomma io quello che vi voglio dire è questo cioè a tutte le persone alle quali è capitato un infortunio di non abbattersi non è la solita frase che si non voglio dire la solita frase che si dice tira di su sta su non c'è pensato non è così io dico innanzitutto la prima cosa è non deprimersi mai perché la depressione è l'inizio inesorabile di tutti i mali abbassare difese immunitarie incomincia incomincia a cedere tutto non soltanto incomincia a cedere la tua forza in qualche modo vedere le cose vedere evocare continuamente fantasmi fantasmi tutto il giorno alla fine fa arrivare i fantasmi quindi io vorrei in qualche modo distrazione ma distrazione qualitativa in che senso io non lo so credo che non sono un medico ragioni in maniera molto 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 semplice credo che condividere con altre persone che hanno avuto lo stesso problema il vostro problema sia molto importante perché soltanto una di quelle persone che la che la lo sta sopportando lo sta combattendo e magari è la più forte di tutti è quella la persona alla quale voi dovete in qualche modo indirizzarvi quindi non aver paura di parlare del problema perché più lo si tiene dentro più uno si distrugge quindi secondo me il condividerlo chiaramente non andarlo a sbandialare a destra e a sinistra perché non c'è nessun motivo però in determinate situazioni con le persone giuste con delle persone sensibili parlarne e trovare anche la forza nelle parole degli altri delle persone sensibili che vi ascoltano di procedere di andare avanti ma attenzione allontanate la depressione da voi questo forse è la battaglia più dura che dovete secondo me affrontare io sapete tutti che sono un appassionato così serale di medicina farmacologia però non vorrei tornare su sta cosa che mi comincia pure un po' a stufare perché sembra che voglio fare il medico io non sono medico sono un appassionato ho letto una cosa molto interessante il tumore al seno è aumentato del 3% mi sembra di capire dall'ultimo anno dall'ultimo convegno che ho letto una cosa che è avvenuta in America però nello stesso tempo è aumentato notevolmente il numero delle guarigioni quindi ci si ammala un po' di più ma si guarisce in maniera più più evidente quindi non perdete non perdete la fiducia non perdete la speranza oggi fortunatamente i farmaci ogni anno fanno uno scatto in più ci sono delle persone altamente specializzate che possono aiutarvi ma soprattutto fidatevi delle persone che hanno avuto questo problema che l'hanno affrontato stoicamente eroicamente che sono loro che vi daranno la forza per andare avanti quindi dialogate cercatele queste persone e soprattutto non 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 abbattetevi di oltre misura non serve a niente non serve a niente perché spesso io ho visto ho perso tante persone ultimamente negli ultimi due anni degli amici carissimi sembravano persone per lo stile di vita destinate a vivere sicuramente più di 80 85 anni l'assenza di prevenzione e questo è un discorso magari ecco che faccio un altro tipo di platea ecco il discorso di prevenzione è fondamentale oggi io credo che la prevenzione è tutto come si sente un piccolo campanello allarme si deve andare senza scivolare nell'ipocondria per carità però è sempre bene prevenire ho visto tante persone dire che cos'è quello ma no mi hanno detto che è un neo mi hanno detto che è un angioma non era un neo non era un angioma era un melanoma e io ho detto vai ci andrò vai adesso questa settimana c'ho la cosa poi quell'altro poi ci andrò e non ci è andato mai poi alla fine e alla fine si arriva tardi quindi prevenzione conoscenza e soprattutto parlarne parlarne con chi ha con chi ha avuto questo problema con chi lo sta combattendo e possibilmente con la persona più forte quella che sicuramente è in prima fila nel combattimento voi da queste persone trarrete la forza da andare avanti ma soprattutto di tirarvi sullo spirito perché evitare la depressione è già un passo notevolissimo verso la guarigione aiuta le medicine aiuta tutto la difesa immunitaria e la depressione le abbatte definitivamente quindi io quindi vi faccio tutti gli auguri possibili immaginabili vi ammiro ammiro sicuramente vi ammiro perché state combattendo una battaglia dura però io non lo so se le mie semplici banali perché ci sono fiorfioli di professori che sono molto più convincenti molto più bravi di me però se le mie parole possono in qualche modo esservi servite a qualcosa e anche i miei film durante qualche terapia anche io perché io poi ricevo anche dei ringraziamenti devo dire la verità grazie ai suoi film che mi ha fatto e molte di queste persone oggi continuano a dirmi grazie per quegli anni quindi ce l'hanno fatta molte molte vi abbraccio con affetto vi ringrazio per avermi ospitato ringrazio il professor Veronesi ringrazio tutta l'organizzazione dello IEO che so essere una struttura veramente molto molto valida e lo so perché qualche amico ci è venuto qualcuno è uscito vittorioso qualche un altro no però è una struttura seria e quindi grazie per questo invito e in bocca al lupo a tutti grazie a tutti